Da dove cominciamo? Questa storia è forse una delle peggiori di cui abbia mai parlato sul canale. Parleremo di un piccolo gruppo di 5 persone, una delle quali, James Sprout, che avete visto nella copertina, ha fatto una fine davvero straziante. Questo gruppetto da tantissimi è definito come culto, tanto che viene chiamato North Shields Death Cult, il culto della morte di North Shields. Ragazzi, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi, oh mio Dio ragazzi, voglio raccontarvi una storia che non sto scherzando, mi ha fatto venire gli incubi. La notte del giorno in cui ho cominciato a informarmi su questa vicenda, ho sognato le persone di cui parleremo in questo video, e non succedeva da anni. Questo per farvi capire che le vicende di cui parleremo sono davvero atroci. Seriamente, questa vicenda mi ha terrorizzato, non mi vergogno ad ammetterlo, anzi. Sicuramente quindi questo video non è per tutti. Vi avviso adesso così appena vedete che le cose si fanno troppo scioccanti, se non ve la sentite potete chiudere. Detto questo, cominciamo con il file di oggi. A mia grande sorpresa, questa è una storia di cui si sente poco parlare. Probabilmente le poche persone che hanno approfondito hanno deciso di non parlarne, perché sono rimaste profondamente turbate, e hanno deciso quindi di non diffondere queste stesse sensazioni ad altre persone. A va che mi guardate, però, queste cose interessano, quindi eccomi qui. Prima di addentrarci nel vivo della vicenda, devo dirvi che purtroppo non abbiamo tantissime informazioni riguardo al background delle persone coinvolte. Sappiamo poco sul loro passato, ma abbiamo invece tantissime, davvero tantissime informazioni, riguardo agli eventi che gli hanno visti i protagonisti. Sappiamo molto bene cosa è successo a queste persone, forse troppo bene. Come vi ho detto prima, quello di cui parleremo viene chiamato culto della morte di North Shields, ma in realtà non è mai stato un vero e proprio culto, ma ci arriviamo più avanti. Comunque, prima di arrivare al povero James Sprout, l'uomo della copertina, direi di partire dal pilastro di questo culto, dal fondatore. Da dove cominciamo? Allora, quest'uomo si chiama Zahid Zaman, ed è nato il 19 dicembre del 1973. Non sappiamo dove è nato, com'è cresciuto, niente. Sappiamo però che nel 2003 ha 30 anni e vive a Sheffield, una città di oltre 500.000 abitanti, nel South Yorkshire, in Inghilterra. Ecco, Zahid già allora, ma probabilmente anche prima, era una di quelle persone che si inventano qualsiasi cosa, di cui non puoi fidarti, perché qualsiasi cosa che esce dalla loro bocca potrebbe essere una balla. Ecco, lui era esattamente così. Mentiva su davvero qualsiasi cosa. Per esempio, diceva ai suoi conoscenti e amici che era ricco, ma non era vero. Diceva che il suo lavoro era molto importante e prestigioso, che guadagnava un sacco di soldi, ma in realtà era disoccupato. Cioè, non si faceva proprio nessuno scrupolo nel mentire, anche su queste cose. Che voglio dire, prima o poi la gente se ne accorge che è una balla, no? Comunque, ad un certo punto non specificato, Zahid ha un gravissimo incidente in auto, a causa del quale subì una ferita alla testa molto grave. Successivamente, infatti, andò in coma e ci restò per tantissimo tempo, non si sa quanto. Ma una volta risvegliato, fu costretto alla sedia a rotelle, sulla quale sarebbe dovuto rimanere per il resto della sua vita. Da quel momento, quindi, l'uomo ha cominciato ad usare la sedia a rotelle e girare per la città in questo modo. Ovviamente. Peccato però che in realtà, quella sedia a rotelle non gli serviva davvero. Era tutta una bugia, non c'è nessuna prova che sia stato in coma, né tantomeno che un incidente in auto così grave sia mai avvenuto. Si era inventato tutto, molto probabilmente, o quantomeno la parte che lo vedeva costretto sulla carrozzina. Lui però voleva usarla, voleva far credere a tutti di essere una vittima e trarne i benefici. Peccato però che non si impegnava neanche troppo a rendere credibile questa farsa. Perché in più di un'occasione, molte persone l'hanno visto alzarsi, camminare e addirittura correre. Ma lo faceva solo in situazioni in cui per lui sarebbe stato conveniente farlo. Ma le volte in cui le persone lo vedevano alzarsi, pensavano semplicemente che fosse un miracolo, che fosse guarito o cose del genere. Cioè. Alla seconda volta poi ovviamente la bugia non riggeva più. A volte, pensate, durante qualche lite, e litigava molto spesso, quando la discussione diventava troppo accesa, si alzava con fare minaccioso, pronto per fare a botte. Insomma, un bugiardo patologico. E un opportunista. Già solo un comportamento del genere è da condannare. È una presa in giro, disgustosa, nei confronti di chi davvero è obbligato ad usare una sedia a rotelle, magari per tutta la vita. Ma affidatevi, questo non è niente. Essendo nei primi anni 2000, il dating online, i siti di incontri, eccetera, erano proprio agli albori. E Zaid ha cominciato ad utilizzarli. Ma ovviamente mentiva anche lì, figuratevi, faceva finta di essere un uomo estremamente ricco, tanto che la sua immagine di profilo in questi siti, era lui, con dietro dei lingotti d'oro. Non sappiamo se questa foto fosse reale, ma a questo punto dubito, o era photoshoppata, o quei lingotti erano finti. Cioè, sicuro. Anche perché non era ricco, e questo è certo. Comunque, in questi siti di incontri, nel 2005, fa la conoscenza di una donna, quella che sarebbe diventata la sua prima seguace, a tutti gli effetti. Lei si chiama Kay Rayworth, è nata il 10 novembre del 1960, e all'epoca viveva a North Shields, luogo in cui, a tutti gli effetti, si svolgerà il caso di oggi. Aveva 45 anni, al momento della conoscenza online con Zaid, e aveva già due matrimoni falliti alle spalle. Con suo primo marito, aveva anche avuto due figli. Oltre a questo, Kay era conosciuta per essere una persona in generale sempre felice, quasi sempre sorridente, socievole, estroversa. Frequentava la chiesa della sua cittadina, cantava nel coro. Tutto sommato, era molto attiva nella vita e nelle attività della comunità. Tuttavia, dopo il secondo matrimonio, qualcosa cambiò. Stando alle testimonianze, la donna aveva cominciato a soffrire di depressione, e si era anche un po' abbandonata all'alcol. Si sentiva davvero davvero sola, e credeva di aver perso il suo scopo nella vita. Non era più la persona sorridente ed estroversa che tutti ricordavano. Per questo cominciò ad utilizzare i siti di dating per del sesso occasionale, ma in realtà molto probabilmente cercava solo un po' di compagnia. Si trovava in un periodo in cui era davvero tanto, tanto debole e vulnerabile. Che se ci pensate è una caratteristica chiave che i leader dei culti ricercano nei seguaci. Perché si tratta di persone molto più facili da manipolare, senza uno scopo, alle quali promettere un futuro migliore che però non arriverà mai. E ci tengo a ricordarvi che chiunque, in qualsiasi momento della sua vita, si può ritrovare in una situazione del genere. Per cui chiunque, potenzialmente, può cadere vittima a tutti gli effetti di un culto manipolatorio e potenzialmente pericoloso. Questo ovviamente non giustifica quello che farà più avanti. Ma ci arriviamo, ci arriviamo. Dunque, in questi siti di incontri, Kay fa la conoscenza di Zahid. I due cominciano a chattare e in qualche modo si piacciono subito. O comunque vanno molto d'accordo. E iniziano effettivamente a flirtare. Per messaggio, sentirsi, no? Ecco. Ad un certo punto, dal nulla più totale, nel dicembre del 2005, Zahid chiede a Kay di trasferirsi da lei. Non si erano mai visti, eh? Ma lei accetta. Gli dice di sì. Ancora una volta era sola, persa, e probabilmente aveva bisogno di qualcosa o qualcuno che smuovesse un po' la sua vita. Quindi ha accettato. C'è da dire che era anche molto presa da Zahid. Quindi dai, alla fine è comprensibile, immagino. Comunque Zahid, a tutti gli effetti, si trasferisce. Va da Sheffield a North Shields e comincia a vivere a casa di Kay. Inizialmente le cose, devo dire, vanno molto bene. Anche perché Zahid si offre di aiutare Kay con il mutuo della sua casa. E non solo si offre di farlo, ma lo fa effettivamente. Paga ben 20.000 sterline sul suo mutuo e grazie a questo la donna può finalmente fare un sospiro di sollievo. Sinceramente non so come cavolo abbia fatto Zahid a trovare quei soldi. Mi ricordo che non lavorava. Vabbè, mistero. Tuttavia, come penso già, avrete capito, l'uomo non ha fatto questo gesto per gentilezza, per aiutarla perché l'amava o cose simili. No. Ha usato il pagamento di queste 20.000 sterline come una tattica per prendere il controllo su di lei. Perché ovviamente chiunque si sentirebbe in debito dopo un gesto del genere. E infatti Zahid ci ha visto lungo perché pensava ok, le ho dato tutti questi soldi, lei ora in qualche modo deve accontentarmi, deve ricambiarmi il favore. Tuttavia all'inizio Kay credeva che davvero l'uomo avesse agito solo per bontà e credeva davvero che la amasse. Anche perché lo dimostrava, in un certo senso, con gesti come questo. La donna molto in fretta si ritrova tanto presa da questa relazione, coinvolta attivamente, tanto che Zahid diventa una delle cose più importanti della sua vita. Lui però, d'altro canto, molto lentamente, giorno dopo giorno e mese dopo mese, cominciava a diventare sempre più controllante e manipolatorio. Il percorso di manipolazione di Zahid nei confronti di Kay fu davvero lento e anche per questo per lei fu difficile accorgersene. Cominciò tutto con cose molto piccole, quasi insignificanti, se non ci si presta attenzione. Per fare un esempio, Zahid cominciò a dirle che solo alcuni tipi di arredamento potevano entrare in casa. Cioè, non poteva arredare come voleva lei, doveva avere il suo consenso. Ma poi, molto lentamente, cominciò anche a dirle con chi poteva parlare, chi poteva frequentare, in quali posti poteva recarsi. Tutto molto lentamente, ragazzi, tenetelo a mente. All'inizio erano davvero piccole cose, ma dopo qualche tempo, Kay si è ritrovata completamente sola, isolata dal mondo. Non poteva più uscire, non poteva vedere o sentire amici e familiari neanche i suoi figli. E non poteva uscire di casa se non accompagnata da Zahid. In queste situazioni, non ci si rende conto di essere in una relazione del genere, specialmente se tutto comincia molto lentamente. E se si è in un periodo difficile, si è vulnerabili. Quindi capisco. Capisco perché lei si è fatta manipolare. Non capisco quello che farà più avanti, ma ci arriviamo. Molto presto, Zahid diventa violento, anche a livello fisico. Comincia a fare cose come alzarsi di scatto dalla sedia e picchiare Kay. La insultava, le diceva le cose più brutte e cattive che gli venivano in mente. Addirittura, le sputava in faccia. A volte prendeva un martello e con una furia allucinante lo sbatteva con forza contro i muri di casa, danneggiandoli e spaventando a morte Kay. In generale, aveva cominciato a fare tantissime cose per intimidirla e tenerla sotto il suo controllo. Le diceva anche che questo suo comportamento, che era violento e incontrollabile, era causato da lei. Cioè, lui si arrabbiava così, per colpa sua, per le piccole cose che faceva che lo facevano incazzare. Ad un certo punto le spiega che questi scatti di rabbia erano dovuti dall'incidente in auto che aveva fatto tempo prima. Perché una parte del suo cervello era stata danneggiata e che quindi non poteva controllarsi. L'unico modo per non farlo sbroccare era comportarsi bene e fare tutto quello che lui le diceva. Insomma, era colpa sua. Doveva lei smettere di farlo incazzare. Assurdo, davvero. Kay, in questo periodo, prova più volte a lasciare la relazione perché capisce che qualcosa non andava. Ci prova e ci riprova di nuovo ma Zaid era riuscito a controllarla quasi totalmente. Ogni volta che lei provava a mollarlo e andarsene lui minacciava di togliersi la vita. Una volta è addirittura quasi andato in overdose e ha detto a Kay che si sarebbe fatto aiutare solo se lei fosse tornata. E ovviamente lei l'ha fatto. Questa è una tattica molto comune e anche molto subdola. Quindi state davvero attenti se qualcuno vi dice che si toglierà la vita qualora voleste allontanarvi. Allontanatevi e chiedete aiuto. Cercate di non cadere in questa trappola perché è solo una potente tecnica di manipolazione. E a proposito un'altra tecnica che utilizzava Zaid era dire a Kay che era il bersaglio di una gang pericolosissima nella città in cui viveva prima Sheffield. Le diceva che doveva indossare un giubbotto antiproiettile quando usciva perché queste persone pericolosissime lo stavano cercando volevano farlo fuori. Quindi lei pensava che Zaid fosse davvero pericolosissimo comunque che avesse connessioni con persone senza scrupoli e per questo doveva stare attentissima a non farlo arrabbiare. Kay a questo punto è totalmente manipolata e sotto il controllo di Zaid non avrebbe mai più cercato di lasciarlo. Ovviamente tutte queste ragazzi erano bugie. Sebbene dentro le mura di casa l'uomo fosse un mostro e non gli importasse per niente di ciò che Kay pensava di lui fuori con la gente del posto era completamente un'altra persona almeno all'inizio. Durante gli anni in cui erano solo lui e Kay e in cui sono successe tutte le cose che vi ho raccontato Zaid faceva di tutto per essere visto come un cittadino modello voleva che tutti lo vedessero come una persona d'oro con un cuore grande sempre pronta ad aiutare i più deboli i più bisognosi all'inizio gli piaceva proprio girare per il vicinato e parlare con più persone possibili dipingendosi appunto come questa persona dolce con un grande cuore raccontava loro del suo tragico incidente che probabilmente non è mai avvenuto tutti gli credevano perché cavolo come fa a non credergli era in sedia a rotelle sembrava una brava persona era gentile cordiale poi sorrideva cercava davvero di essere amico di tutti faceva qualsiasi cosa pur di apparire come una brava persona infatti sentite in quel periodo ha addirittura iniziato a fare da volontario in una mensa che offre da mangiare ai senza tetto e alle persone in difficoltà poi ha cominciato a partecipare a vari eventi di beneficenza stando sempre in prima linea pronto ad aiutare il prossimo in uno di questi eventi durante una festa di Natale è stato fotografato per immortalare il suo coinvolgimento attivo in questa attività di beneficenza e lo vediamo insieme al sindaco di Newcastle che sarebbe la città in cui si trova la zona urbana di North Shields tra l'altro adesso che ci penso Newcastle è la stessa città in cui è ambientato il caso di Mary Bell di cui vi ho parlato qualche mese fa vabbè vi ho parlato della foto per farvi capire quanto fosse conosciuto e stimato da tutti nella comunità tutti pensavano fosse un brav'uomo pronto ad aiutare i più bisognosi sempre e comunque e senza chiedere nulla in cambio poi dopo tutto quello che aveva passato poverino cioè agli occhi di tutti era un eroe pensate che ad un certo punto un giornale locale ha fatto un articolo su di lui perché era riuscito a ritrovare il cane smarrito di una sua vicina di casa in questo articolo lo dipingevano davvero come un eroe l'uomo che dopo aver passato una vita di dolore ha deciso di dedicarsi ad aiutare gli altri ha ritrovato questo cane smarrito e l'ha subito portato al suo proprietario quest'ultimo una donna in realtà gli ha anche offerto una ricompensa in denaro ma lui non ha accettato le ha solo detto che amava i cani e gli animali ed era più che felice di averla aiutata che poi scusate chi è che non l'avrebbe fatto vabbè fatto sta che molto probabilmente questa è una supposizione mia quel cane non era neanche sparito davvero conoscendo Zaid è probabile che fosse stato lui a rapirlo e poi a riportarlo alla sua proprietaria per passare come l'eroe del quartiere poi il fatto che avesse detto di amare i cani e gli animali è assolutamente vomitevole tra poco capirete il perché ci stiamo finalmente avvicinando al motivo per cui il suo viene ricordato come culto quello che succederà da qui in poi è semplicemente raccapricciante passa del tempo Zaid ha ora il completo controllo su Kay ma è visto in maniera eccellente dalla gente del posto tuttavia non ha ancora raggiunto il suo obiettivo avere solo una persona da comandare per lui non è abbastanza dopo qualche anno di convivenza con la donna quindi Zaid conosce altre tre persone direi quasi una dopo l'altra non sono chiarissime le tempistiche fatto sta che nel 2009 su Facebook conosce una donna di 43 anni di nome Mayra Wood nata nel 1966 Mayra al momento dei fatti si trovava in una situazione molto simile a quella di Kay aveva appena affrontato un divorzio e in generale si trovava in un momento molto delicato della sua vita in cui era tanto debole tanto vulnerabile i due si conoscono appunto su Facebook e cominciano subito a chattare e flirtare la donna si prende molto e molto in fretta per Zaid che sembra darle delle speranze sembra che possa aiutarla lui d'altro canto decide che non gli bastava più avere solo Kay come amante ne voleva un'altra comincia quindi a frequentare anche Mayra e tutto senza nascondere niente a Kay cioè in sostanza si ritrova subito con due amanti molto leali fragili e remissive a loro questa nuova situazione sta bene insomma non potevano ribellarsi neanche volendo questa cosa di avere più amanti è un'altra caratteristica che troviamo spesso nei leader di culti fateci caso quando vi parlo di Zaid veramente fate caso a tutti gli altri leader dei culti e vedete quante cose aveva in comune con loro sono davvero tantissime il carisma la bella facciata le manipolazioni più partner e più passava il tempo più queste caratteristiche in comune con i leader aumentavano a questo punto comunque Zaid conosce un'altra donna ancora di nome Anne Corbett che all'epoca aveva solo 19 o 20 anni non conosciamo moltissimo su suo passato ma sappiamo che soffriva di disturbi dell'apprendimento e che la sua infanzia e adolescenza non erano state delle migliori ad un certo punto della sua vita era anche diventata senza tetto era una ragazza fragile davvero molto ingenua facilmente trasportabile e manipolabile tutte caratteristiche in comune con le altre due donne cadute in preda di Zaid lei però essendo molto più giovane lo era ancora di più aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse che le stesse accanto che le dicesse cosa era giusto fare e cosa no purtroppo questa persona sarà Zaid i due si conoscono alla mensa per i bisognosi dove Zaid faceva il volontario e dove Anne si era recata per ricevere un pasto caldo da subito lei rimane rapita dal carisma dell'uomo pensa che sia una persona rispettabile gentile altruista con un cuore d'oro e ovviamente avendo bisogno di una persona così si affida a lui Zaid poi sempre nello stesso periodo e sempre nella stessa mensa per i bisognosi conosce l'ultima persona che sarebbe entrata a far parte di questo gruppo barra culto James Prout l'uomo che avete visto nella copertina James chiamato da tutti Jimmy aveva 39 anni al momento del primo incontro con il leader e aveva avuto un'infanzia e in generale una vita davvero difficili era il sesto di otto fratelli suo padre era totalmente assente e sua madre aveva parecchie difficoltà a prendersi cura dei figli perché soffriva di disturbi mentali che non conosciamo per questo Jimmy passò gran parte della sua infanzia in affidamento ad un certo punto della sua vita sembrò riprendersi da questa situazione sfortunata e conobbe una donna di nome Mandy con la quale ebbe anche due figli purtroppo però molto presto questo breve periodo felice finì la sua compagna lo abbandonò e non rivide mai più i suoi figli Jimmy era inoltre una persona che in Inghilterra viene definita vulnerable adult adulto vulnerabile che sarebbe tutta una categoria di persone che a causa di disabilità mentale o fisica non può prendersi cura di se stesso senza l'aiuto degli altri adesso detto così sembra che Jimmy non fosse autosufficiente ma non era proprio così anche lui come Anne aveva dei disturbi dell'apprendimento ma almeno in teoria nient'altro e se c'era altro non è mai stato specificato comunque purtroppo durante la sua vita Jimmy si ritrova con grossi problemi finanziari e finisce per diventare anche lui un senza tetto nonostante questo però le persone che lo hanno conosciuto lo descrivono come un uomo buono molto umile e gentile solare sempre sorridente mai arrogante o aggressivo sempre pacato e calmo ecco lui era forse la persona più vulnerabile tra tutte quelle entrate nel gruppo di Zaid aveva davvero bisogno di aiuto ma nessuno specialmente da adulto è stato capace di darglielo quindi quando parla per la prima volta con Zaid alla mensa per bisognosi rimane molto colpito dal suo carisma dalla sua bontà e così via vede in lui qualcuno che può fargli da guida che può davvero aiutarlo e così si fida ciecamente dei suoi racconti e delle sue promesse Zaid era molto furbo faceva il volontario a quella mensa solo per entrare a contatto con persone così deboli vulnerabili e manipolabili perché lui voleva controllarle voleva formare un gruppo di persone che seguisse ciecamente tutto ciò che diceva e finalmente c'era riuscito nel 2009 il gruppo è ormai formato ed è composto da Zaid Zaman il leader Kay Raworth Myra Wood Anne Corbett e Jimmy Prout ora per Zaid non ci sarebbe stato più nessun motivo per comportarsi come l'eroe della città aveva portato a termine il suo obiettivo ancora oggi si discute sul fatto che il gruppo possa essere definito come culto o meno principalmente perché i seguaci erano solo quattro ma anche perché non è che seguissero una dottrina o un obiettivo comune erano semplicemente un gruppo di persone un gruppo di persone però controllate in tutto e per tutto da un leader come succede nei culti poi come vi ho detto Zaid aveva davvero tantissime caratteristiche in comune con i leader dei culti quindi direi che possiamo chiamarlo culto a tutti gli effetti o simil culto sicuramente non di stampo religioso di nessuno stampo in realtà vabbè il punto è che Zaid proprio come in un culto ora che ha i suoi seguaci vuole che vivano tutti a stretto contatto con lui così da controllarli ancora meglio la casa in cui viveva con Kay però non era abbastanza grande per ospitarli tutti quindi cos'è che fa obbliga Kay la sua compagna a comprare un'altra casa in cui far stare gli altri membri e lei lo fa allora Kay e Zaid vivevano al numero 35 di St. Stephen's Way a North Shields casa che su Google Maps è censurata credo proprio per via del caso di cui stiamo parlando comunque fa comprare a Kay una seconda casa al numero 73 della stessa via come vedete sono molto vicine perché voleva appunto mantenere il controllo su tutti loro Kay e Zaid continuano a vivere al numero 35 mentre gli altri tre Mayra, Ann e Jimmy cominciano a vivere insieme al numero 73 in quel momento Zaid ha una relazione sia con Kay che con Mayra ma non con Ann in realtà infatti Ann comincia ad avere una relazione con Jimmy quindi sono tutti collegati in qualche modo anche da relazioni romantiche tra mille virgolette tutti comunque sono legati da qualche tipo di rapporto ed è solo a questo punto che il culto il gruppo comincia davvero a esistere è qui che cominciano le cose orribili e indicibili che avverranno dentro le mura di quelle case Kay era già sotto il totale controllo di Zaid e ora anche gli altri tre avrebbero subito lo stesso destino Zaid comincia ad isolarli sempre gradualmente ma più in fretta rispetto a come aveva fatto con Kay dopo pochissimo tempo nessuno del gruppo poteva avere alcuna interazione con persone esterne nessuno di loro poteva uscire senza il consenso e la presenza di Zaid tutti furono costretti a tagliare i ponti con amici e familiari inoltre dovevano sempre appoggiare ed essere d'accordo con ogni idea e decisione del leader che diceva loro che tutte le persone al di fuori del loro gruppo erano strane inaffidabili cattive molto presto si formò anche una sorta di gerarchia era inevitabile nel posto più alto ovviamente c'era Zaid il leader poi sotto di lui Myra e Kay le sue due compagne che erano diventate come degli scagnozzi agivano al posto suo sotto i suoi comandi ed erano i suoi occhi e le sue orecchie controllavano che tutto andasse come aveva ordinato il leader Zaid si fidava di loro gli avevano dimostrato totale dedizione comunque sotto ancora poi c'era Ann la donna più giovane del gruppo che lei non aveva una relazione con Zaid quindi era vista come inferiore ai suoi occhi ma comunque superiore rispetto all'ultimo arrivato Jimmy ecco Jimmy era al posto più basso della gerarchia e per questo veniva trattato malissimo ma fin da subito e non solo da Zaid anche dagli altri membri del gruppo che erano spronati ovviamente dal leader che diceva loro di trattarlo così come un oggetto Zaid ha totalmente approfittato del fatto che Jimmy fosse tanto vulnerabile e manipolabile sapeva che avrebbe fatto qualsiasi cosa gli avrebbe detto quindi già dall'inizio viene manipolato fino al punto di credere davvero di non valere nulla gli vengono subito assegnati i compiti più faticosi e manuali ai quali non può sottrarsi perché anche lui crede che sia la cosa giusta da fare che sia il suo unico scopo il suo unico compito quindi comincia a pulire a fondo a cucinare a mettere in ordine in generale a sbrigare tutte le faccende che Zaid gli assegnava in entrambe le case ovviamente non era pagato per svolgere questi lavori figuratevi invece era trattato malissimo e nessuno gli mostrava segni di riconoscimento anzi standard di Zaid veniva insultato brutalmente e picchiato questi standard all'inizio erano alti ma col passare del tempo sono diventati impossibili il leader trovava sempre una scusa per insultarlo e punirlo e farlo insultare e picchiare anche dalle donne del gruppo le persone che abitavano nella zona hanno dichiarato che Jimmy sembrava lo schiavo del gruppo e in effetti era proprio così quindi i vicini delle persone del posto erano al corrente di ciò che stava accadendo si erano accorti che c'era qualcosa di strano di sospetto e avevano iniziato anche a vedere i loro comportamenti strani quando uscivano tutti insieme per esempio dovevano stare sempre tutti dietro a Zaid in fila indiana e in ordine gerarchico quindi davanti c'era lui poi dietro Kay Maira Han e infine Jimmy nessuno poteva stare davanti a lui in nessun caso come potete immaginare ora che il suo culto è formato a Zaid non frega più niente di costruirsi la bella facciata da cittadino modello con un grande cuore lo faceva solo per adescare persone vulnerabili quindi ora pian piano la sua maschera comincia a frantumarsi e Zaid diventa letteralmente il peggior vicino di casa che qualcuno potesse avere pensate di avere dei vicini terribili? ecco non sono niente in confronto a lui innanzitutto in entrambe le case Zaid oscura le finestre con del cartone sia per non permettere che la gente vedesse dentro sia per impedire che i suoi seguaci vedessero cosa accadeva fuori poi installa anche delle videocamere di sorveglianza ma non lo fa per la sua sicurezza o quella del suo gruppo installa le videocamere puntate verso la strada per spiare e vedere cosa facevano i vicini e ad ogni minima effrazione comportamento sospetto ma in realtà anche cose piccolissime lui aveva la registrazione ed era pronto a mandarla alla polizia denunciando questi comportamenti ma parlo di cose ragazzi frivole come per esempio un parcheggio fatto male un'auto in sosta vicino alla sua proprietà cose così in quel periodo Zaid cerca ogni scusa per far finire nei guai quante più persone possibili pensate che si teneva anche una piccola videocamera addosso ogni volta che usciva con la speranza di registrare qualche piccolo crimine effrazione o comportamento illecito dei vicini sempre poi col fine di mandare i filmati alla polizia e denunciare ma dato che non succedeva mai niente perché i suoi vicini non erano criminali come lui Zaid iniziò ad andare in giro e insultare a caso le persone del quartiere le insultava e le accusava di cose inesistenti solo per cominciare una lite e denunciare poi tutto alla polizia dicendo che l'avevano molestato per via della sua disabilità è assurdo davvero cioè non ho parole Zaid fa tutto ciò che può per rompere le palle alle persone intorno a lui una volta per esempio era sulla sua sedia a rotelle che vagava per il vicinato e intenzionalmente ha cominciato a rovesciare tutti i bidoni della spazzatura che incontrava per strada riempiendo le strade di sporcizie e rifiuti uno dei suoi vicini l'ha visto e si è fermato gli ha chiesto cosa cavolo stesse facendo e lui in risposta ha provato a cominciare una rissa sempre riprendendo tutto con la sua telecamerina con solo obiettivo di denunciare mandando il video alla polizia in queste denunce l'uomo diceva che le persone lo insultavano con parole razziste e lo discriminavano per via della sua disabilità e per il fatto che fosse sulla sede rotelle ma non era mai vero non aveva mai delle prove effettive di questi insulti e discriminazioni anzi era sempre lui a far cominciare i litigi e le discussioni ma anche quando stava dentro casa trovava il modo per rompere i colli... al numero 35 di quella via infatti dove viveva Conkey i due condividevano un muro con un altro appartamento perché sapete che in Inghilterra sono comunissime le case tutte attaccate l'un l'altra bene loro erano in una casa che si chiama semi-detached che è libera da un lato e attaccata ad un altro appartamento dall'altro lato ecco Zaid durante la notte si metteva a tirare colpi di martello sul muro in comune apposta per svegliare i vicini e infastidirli faceva casino urlava e lo faceva di proposito solo per scatenare in loro qualche reazione che avrebbe poi ripreso e mandato alla polizia vi rendete conto? ma non finisce qui perché ad un certo punto l'uomo diventa addirittura violento a livello fisico con le persone del posto in un'occasione mentre litigava con un vicino per motivi che non conosciamo ha iniziato a colpirlo con una palla da biliardo dentro una calza cioè aveva messo sta palla dentro una calza aveva cominciato a colpirlo a ripetizione ed è assurdo che a sto punto nessuno avesse fatto niente per mandarlo via sicuramente era stato segnalato alla polizia perché questi comportamenti sono semplicemente inaccettabili ma per qualche motivo non era stato fatto nulla ah e una volta ha avuto la faccia tosta di recarsi al comune per chiedere dei sussidi aggiuntivi per via della sua disabilità che non esisteva e quando la donna che si è occupata della sua pratica glieli ha negati lui non l'ha presa proprio bene per vendicarsi ha falsificato una lettera fingendo di essere l'addetta del comune che gli aveva negato questi aiuti ecco nella lettera indirizzata a Zaid ha scritto una marea di insulti razzisti e discriminatori nei suoi confronti nei confronti di se stesso praticamente poi ha falsificato la firma della donna e lo stampo del comune per poi denunciarla mandando la lettera alla polizia e dato che sta lettera era fatta benissimo la polizia gli credette aprirono un'indagine contro la donna che è dovuta recarsi alla stazione di polizia per chiarire la situazione e ha quasi perso il lavoro poco dopo per fortuna si è scoperto che la lettera era falsa ma comunque vi immaginate lo shock di questa povera signora che è stata indagata senza nessun motivo che stava per perdere il lavoro per colpa di Zaid è allucinante davvero Zaid era un uomo aggressivo con tutti e che cercava sempre di litigare con tutti ma voleva comunque passare dalla parte della vittima anche giocando sul fatto che fosse sulla sedia a rotelle ripeto inutilmente non ne aveva bisogno come potete immaginare tutti nel vicinato cominciano ad odiarlo non lo possono vedere gli stanno alla larga e giustamente direi ma se si comportava così alla luce del sole davanti a tutti immaginate come si comportava tra le mura di casa passano anni in questa maniera Zaid si fa odiare da tutti ma il gruppo tutto sommato rimane uguale non cambia praticamente nulla ma col passare del tempo il comportamento del leader diventa sempre più strano e preoccupante la sua violenza nei confronti dei suoi seguaci cresce sempre di più e diventa davvero morbosa allarmante soprattutto nei confronti di Jimmy ma tutti i membri del gruppo temono infinitamente Zaid hanno paura di lui e sono costretti a fare come dice altrimenti l'uomo li avrebbe puniti li avrebbe aggrediti balzava in piedi dalla sua sedia a rotelle e con un martello cominciava a colpire i muri con fare minaccioso ma a volte quando era particolarmente arrabbiato colpiva anche loro si arrabbiava per delle cose insulse inesistenti e diceva a Mayra ma probabilmente anche agli altri che se avesse voluto avrebbe potuto ucciderli tutti e non l'avrebbero mai beccato poi li minacciava puntando loro un coltello alla gola in quel periodo era semplicemente un regno di terrore in un'occasione si è seduto sopra Mayra fino a impedirle di respirare e la donna infatti persa i sensi oltre a ciò chiedeva in continuazione i rapporti sessuali alle sue due compagne ma davvero in continuazione ragazzi dal mattino alla sera poi una cosa particolare uno dei tanti fetish che aveva Zaid era quello di far bere alle due compagne la sua urina ma ce n'è un altro senz'altro più disturbante a Zaid piaceva guardare una categoria specifica di video pornografici una categoria che si chiama bestiality per farla breve l'uomo guardava tantissimi video di donne intente ad avere fare con animali specialmente cani ecco gli piacevano così tanto questi video che ad un certo punto decise di comprare due cani da portare a casa con loro mio dio una volta fatto ciò provò a costringere Myra e Kay ad avere ragione con questi cani e per fortuna per fortuna loro si rifiutarono quello era davvero il limite era troppo anche per loro che erano così tanto sottomesse e manipolate purtroppo però questa non sarà l'ultima volta che parleremo di quei poveri cani torneranno più avanti nel caso gli abusi a livello sessuale si concentravano solo su Myra e Kay tuttavia il trattamento peggiore in assoluto era riservato a Jimmy che era il più basso nella gerarchia quello che vi ho detto fino ad adesso è niente in confronto a ciò che passerà quest'uomo Zaid comincia ad utilizzare Jimmy letteralmente come un sacco da box e da qui comincia sul serio la parte più cruda e macabra della vicenda arriva il 2015 Zaid e Jimmy hanno più di 40 anni Myra e Kay hanno più di 50 e Ann ne ha 25 Jimmy in tutti questi anni è sempre stato trattato come un vero e proprio schiavo era la persona su cui tutti si sfogavano sia verbalmente che fisicamente non c'era un singolo giorno in cui non venisse maltrattato in qualche modo ma nell'autunno del 2015 un evento in particolare renderà la situazione ancora peggiore ancora più angosciante ad un certo punto il fratello di Ann un uomo di nome Ivan andò ad abitare momentaneamente con loro al numero 73 nella casa in cui stavano Ann e Jimmy è probabile che Zaid non abbia reagito positivamente e abbia anzi cercato di reclutare anche Ivan nel culto quest'ultimo però non era così vulnerabile e manipolabile come gli altri non ci pensava neanche a stare alle regole di Zaid per questo motivo il leader cominciò ad odiarlo profondamente in sostanza perché non poteva avere il controllo su di lui ad un certo punto durante questa sua permanenza lì degli attrezzi o degli oggetti non specificati di Zaid sparirono nel nulla ovviamente lui pensò subito che fosse stato Ivan a rubarli ma non aveva nessuna prova tuttora non sappiamo chi sia stato a rubare questi attrezzi né tantomeno si siano stati effettivamente rubati da qualcuno perché conoscendo Zaid c'è la possibilità che si sia inventato tutto ma nonostante questo il leader ovviamente era furioso con Ivan ma non poteva sfogare la sua rabbia su di lui lui non era sotto il suo controllo quindi contro chi decide di sfogarsi contro Jimmy dà tutta la colpa a lui dicendo che non si era impegnato abbastanza per impedire il furto di questi attrezzi è allucinante ragazzi palesemente una scusa ad ogni modo per questo motivo decide di fargliela pagare Jimmy ovviamente non aveva fatto nulla era totalmente innocente e non meritava alcun tipo di punizione tuttavia Zaid aveva deciso che doveva essere lui a subire le conseguenze del furto e la cosa che fa paura è pensare che fino a quel momento il leader si stava trattenendo tutti gli abusi le violenze e le aggressioni erano solo un piccolo assaggio della sua vera cattiveria da questo momento però si lascia andare e rilascia tutta la sua rabbia e frustrazione sul povero Jimmy e tutti gli altri membri del culto si lasciano trasportare partecipando spesso attivamente a queste punizioni a partire da quel momento ogni singolo giorno tutti i membri del gruppo cominciano a pestare Jimmy fino a riempirlo di lividi ragazzi ogni giorno e la cosa assurda è che anche Myra Kay e Han cominciano ad apprezzare queste violenze non solo Zaid fare del male a Jimmy comincia proprio a piacere a tutti quelli del culto e lui ovviamente poverino non si ribella non può ribellarsi sono tutti totalmente sotto il controllo del leader compreso Jimmy e a questo punto Zaid capisce davvero quanto controllo avesse su di loro lo capisce realmente se ne rende conto spesso infatti si limitava a guardare facevano tutti gli altri sempre sotto la sua istruzione e questo potere era proprio quello che voleva comunque col passare delle settimane purtroppo queste aggressioni non fecero altro che peggiorare e diventare più sadiche e feroci Zaid comprò anche vari strumenti da utilizzare durante questi pestaggi il suo preferito era uno di quei martelli di gomma dura non so neanche spiegarvi cosa ci facesse perché è ovvio ma usava anche altri strumenti e vari oggetti per la casa per inferire su Jimmy strumenti che ovviamente faceva utilizzare anche agli altri membri del culto ma non bastava non era mai abbastanza ad un certo punto iniziò anche a limitargli le porzioni di cibo un'altra pesante tecnica di controllo in realtà lo lasciarono praticamente senza cibo infatti perse un sacco di peso dalle foto che si possono trovare online vediamo quanto fosse deperito visibilmente debole e stremato Jimmy dipendeva a tutti gli effetti dal leader ora anche fisicamente inoltre non gli era permesso sedersi doveva stare in piedi costantemente per ore e ore mentre gli altri erano seduti tranquilli addirittura stravaccati nei divani davanti a lui cioè una tortura ma la cosa più triste di tutte è che Jimmy provava a chiedere aiuto la foto che vi ho mostrato prima infatti era stata pubblicata sul suo account facebook quella e tante altre come queste qui in cui scriveva mi fa male il corpo mi fa male la spalla mi fa male la bocca l'uomo stava cercando disperatamente di chiedere aiuto tramite quei post è ovvio ed è altrettanto ovvio che una persona ridotta in quelle condizioni è vittima di abusi ma nessuno ha fatto nulla anzi la cosa che fa arrabbiare che fa venire ancora di più tristezza è che nessuno interagiva con queste foto nessuno si preoccupava per lui c'era sempre solo il like della sua ragazza Anne che era una delle persone che lo sottoponeva a tali torture è davvero tristissimo tuttavia ad un certo punto Jimmy si recò all'ospedale per curare le ferite subite ma Zahid andò con lui l'uomo aveva lividi ovunque in tutto il corpo ma aveva anche delle ferite d'arma da taglio nella parte superiore del busto e una spalla completamente fratturata non si parla di ferite qualsiasi era chiaro come il sole che fosse vittima di qualche tortura in più all'ospedale era Zahid a parlare al posto suo Jimmy non parlava con i medici cosa che teoricamente avrebbe dovuto destare dei sospetti ma anche solo le condizioni in cui era ridotto cioè assurdo che nessuno abbia fatto niente che nessuno si sia allarmato vabbè quando i medici chiesero a Jimmy come avesse fatto a ridursi così Zahid rispose che era stata una pericolosa gang ad attaccarlo e ferirlo gravemente ce l'aveva con queste gang lui e a queste parole comunque non seguì più alcuna domanda la parte della vicenda che sto per raccontarvi è molto molto più sadica e malata rispetto a tutto quello che vi ho raccontato finora quindi piccolo trigger warning se non ve la sentite non proseguite allora arriva la fine del 2015 e a questo punto Zahid e il suo culto stavano maltrattando e abusando di Jimmy da mesi il leader specialmente trovava queste toccure troppo divertenti si emozionava proprio quindi decise ancora una volta che le botte le c***llate e tutto il resto non erano abbastanza voleva andare allo step successivo tutti i membri del gruppo quindi cominciarono a turno a strangolarlo o a rompergli bottiglie di vetro in testa a volte si mettevano in piedi sopra di lui fino a fargli mancare il respiro e perdere i sensi ma questo ancora non è niente Zahid ad un certo punto ha la brillante idea di prendere delle pinze e cominciare a strappare gli denti uno ad uno con la forza tutto questo ovviamente senza nessun tipo di anestesia figuratevi poi se per caso con le pinze non riusciva a rimuovere un dente allora usava uno scalpello e un martello e glielo distruggeva letteralmente con uno scalpello e un martello e Jimmy poi veniva lasciato lì agonizzante ad urlare senza poter far nulla Dio tutto ciò ovviamente non accadde in un solo giorno non è chiarissima l'esatta cronologia dei fatti ma sappiamo che le cose che vi ho appena raccontato a partire dagli strangolamenti e quelle che vi racconterò fino a fine del video sono cominciate nell'inverno del 2015 e sono durate almeno due mesi due mesi e mezzo ecco dopo la cosa orribile dei denti Zahid decise di dare sfogo anche le sue fantasie sessuali che come sapete erano terrificanti quindi purtroppo siamo al punto in cui i cani che aveva acquistato tempo prima tornano nella storia Zahid li porta da Jimmy e lo costringe ad avere dei rapporti con loro non sappiamo altri dettagli e anche se li avessimo saputi non ve li avrei raccontati perché anche solo immaginare una situazione del genere direi che è abbastanza questo caso è di una tristezza infinita Dio mio e purtroppo va sempre peggio perché c'è ancora un'ultima punizione che il leader decide di dare a Jimmy ed è una cosa davvero disgustosa atroce malata agghiacciante allora dopo l'episodio dei cani Zahid ha annunciato al gruppo che avrebbe rimosso una palla a Jimmy citando le sue parole si è poi voltato verso Jimmy e gli ha chiesto quale vuoi che ti tolga immaginate il terrore che deve aver provato a sentire quelle parole Zahid aveva davvero superato ogni limite ma Jimmy poverino non sapeva cosa fare e gli ha risposto solo non lo so che cavolo dovresti rispondere a una domanda del genere dio mio a questo punto il leader ha tirato fuori un taglierino e l'ha dato a Dan dicendole di procedere di tagliare una palla a Jimmy ecco lei si è rifiutata categoricamente era troppo nonostante le manipolazioni il lavaggio del cervello eccetera eccetera era semplicemente troppo quindi Zahid le ha preso dalle mani il taglierino si è avvicinato a Jimmy mio dio gli ha aperto lo scroll e letteralmente rimosso uno dei testicoli tenete a mente che durante ognuna di queste torture Jimmy era pienamente cosciente sentiva tutto ogni singola cosa e gli altri membri del gruppo a questo punto sono semplicemente rimasti lì a guardare non hanno fatto assolutamente niente per aiutarlo sono rimasti lì ad assistere a questo spettacolo degli orrori perché sinceramente non saprei come cavolo definirlo ma per umiliarlo ancora di più per farlo soffrire ancora e ancora cosa decide di fare Zahid prende il testicolo lo porta in cucina lo mette a bollire poi come se niente fosse torna da Jimmy in salotto e lo obbliga a mangiarlo e Jimmy non può fare niente non si può ribellare non sa cos'altro fare è debole non ha forze probabilmente non è neanche del tutto cosciente e quindi obbedisce lo mangia e mentre lo fa tutti i membri del gruppo compreso il leader ovviamente si mettono a ridere a prenderlo in giro e gli chiedono anche di che cosa sa io ragazzi non ho mai sentito una violenza e un'umiliazione simili queste cose non succedono neanche nei peggiori film io veramente non ho parole per ovvi ragioni comunque non hanno portato Jimmy da un medico dopo questa operazione invece Zahid ha spiegato ad Ann come cauterizzare la ferita e lei l'ha fatto di nuovo mentre Jimmy era totalmente cosciente deve aver provato quest'uomo un dolore inimmaginabile cavolo mi vengono i brividi come avete potuto vedere anche voi all'inizio le donne del gruppo erano vittime tanto quanto Jimmy erano manipolate abusate trattate come oggetti ma col passare del tempo sono diventate succubi totalmente influenzate dal leader talmente tanto da passare da vittime a carnefici anche solo assistere a determinati trattamenti e non intervenire implica comunque una colpa e la cosa assurda è che lo trovavano divertente prendevano per il culo Jimmy veramente sono passate da vittime a colpevoli punto questo è il potere che può avere la manipolazione ragazzi è allucinante comunque tornando a noi in questa storia sembra che nessuno importasse di Jimmy non solo alle persone coinvolte nel culto ma anche all'autorità e ai medici l'uomo infatti si era presentato più volte all'ospedale per farsi curare le ferite ma ogni volta con lui c'era Zahid che si inventava di tutto per far sembrare che fossero incidenti o aggressioni esterne che non poteva controllare roba così comunque una volta è andato all'ospedale dopo che gli erano stati rimossi i denti con le pinze e Zahid ha detto ai dottori che se li era tolti da solo e gli hanno creduto ma ok nel caso in cui qualcuno davvero facesse qualcosa di simile a se stesso è chiaro che va aiutato eppure non è stato fatto nulla nessun sospetto niente la cosa davvero straziante è che in un rapporto condotto dopo la chiusura del caso gli investigatori hanno concluso che le autorità avevano avuto 17 occasioni diverse in cui avrebbero potuto salvare Jimmy 17 volte in cui un minimo sospetto un minimo controllo avrebbero cambiato per sempre le sorti del caso è tristissimo cavolo e Jimmy chiedeva aiuto lo faceva su facebook lo faceva presentandosi all'ospedale cavolo che schifo durante questi mesi di abusi estremi l'intero gruppo usciva tranquillamente con Jimmy andando da una casa all'altra e sul web si possono facilmente trovare tante riprese delle videocamere di sorveglianza che fanno rabbrividire come vedete Jimmy veniva praticamente trascinato dalle donne del gruppo si può vedere quanto fosse fragile impotente indifeso non riusciva a camminare bene inciampava stava chiaramente soffrendo tantissimo e tenete a mente che queste sono riprese effettuate dopo tutte le torture che vi ho raccontato quindi era ovvio che stesse così male aveva delle ferite potenzialmente letali e comunque quelli del gruppo lo trascinavano come se fosse un sacco della spazzatura arriviamo così al febbraio del 2016 solo pochi giorni dopo dalle registrazioni che vi ho appena mostrato dopo essere stato sottoposto a torture indicibili per mesi dall'autunno del 2015 e dopo anni di maltrattamenti il suo corpo semplicemente non ce la faceva più stava soffrendo troppo così alle prime ore del mattino del 9 febbraio 2016 Jimmy era sdraiato a letto ma continuava ad urlare dal dolore non riusciva proprio a contenersi le urla gli uscivano da sole spontanee ed era andato avanti così tutta la notte quindi Ann e Myra che in quel momento erano nell'appartamento con lui al numero 73 erano rimaste sveglie tutta la notte per via delle sue continue urla di dolore per questo erano infastidite arrabbiate Jimmy si trovava in un'altra stanza ma le urla erano così forti e strazianti da risuonare in tutta la casa quindi alle 5 del mattino di quel giorno Myra invia un messaggio a Zaid in cui scrive cito quel bastardo mi ha tenuto a sveglia tutta la notte in risposta a ciò Zaid dice che lui e Kay sarebbero andati da loro per calmare Jimmy per farlo stare zitto quindi poco dopo arrivano all'appartamento e si riuniscono tutti insieme per cercare di capire come zittirlo a questo punto a Zaid viene un'idea geniale dice ad Ann di avvolgere un paio di pantaloni intorno alla bocca di Jimmy essenzialmente imbavagliandolo per farlo zittire e lei lo fa questa tecnica funziona le urla erano adesso soffocate non erano più così forti e quindi tornano tutti a dormire Zaid e Kay tornano nell'altra casa e Myra e Ann vanno semplicemente a letto peccato però che nell'avvolgere quei pantaloni intorno alla bocca di Jimmy Ann gli aveva anche coperto il naso impedendogli a tutti gli effetti di respirare per cui ad un certo punto dopo circa un'ora o un'ora e mezza Ann e Myra vanno a controllare Jimmy e notano che non stava respirando a 45 anni dopo mesi di torture e anni di maltrattamenti James Sprout in completa solitudine in una stanza e tormentato da dolori atroci aveva perso la vita subito dopo in panico Myra chiama Zaid e lo informa dell'accaduto l'uomo quindi senza rimorsi senza paura è convinto che l'avrebbe fatta franca si mette subito all'opera recupera un'altra sedia a rotelle dal garage e insieme a Kay si reca nell'altro appartamento poi tutti insieme avvolgono il corpo di Jimmy in un sacco a pelo lo mettono sulla sedia a rotelle ed escono di casa a questo punto saranno state praticamente le 7 del mattino quindi ci sarebbero potute essere persone in giro ma nonostante questo loro escono con un cavolo di corpo senza vita in un sacco a pelo e lo portano in una sorta di campo abbandonato barra discarica ma non discarica ufficiale un campo abbandonato che si trovava a soli 100 metri dall'abitazione poi abbandonano il corpo lì praticamente attaccato a casa loro la cosa assurda è che in effetti nessuno pare averli visti quella mattina Zaid e tutti gli altri comunque hanno deciso di sbarazzarsi del corpo in questo modo perché pensavano che quando le autorità l'avrebbero trovato avrebbero pensato ad un incidente perché Jimmy era una persona trasandata era era stato un senza tetto viveva un po' così quindi nessuno secondo loro avrebbe indagato comunque dopo essersi sbarazzati del corpo i quattro tornano a casa bruciano ogni tipo di prova che avrebbe potuto collegarli all'omicidio e tornano tranquillamente alle loro solite vite nei giorni successivi Zaid ha cominciato a vagare per il vicinato e chiedere ai passanti così del tipo qualcuno ha visto Jimmy? sapete dove è Jimmy? non lo vediamo da qualche giorno siamo proprio occupati bla 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 così così tutti però lo odiavano per via di come si era comportato negli anni precedenti e ovviamente sospettarono subito di lui in ogni caso venne dichiarata la scomparsa di Jimmy e le autorità cominciarono le ricerche ma nessuno aveva idea di dove fosse e pare che non impiegarono neanche troppa energia nella sua ricerca perché sì aveva una vita un po' così trasandata era probabile che se ne fosse semplicemente andato che cavolo di tristezza questo caso è sempre peggio davvero comunque passarono i giorni e poi le settimane e il gruppo davvero cominciò a pensare di averla fatta franca ne erano così convinti da tornare nel luogo in cui avevano scaricato il corpo e rubare la carta di credito di Jimmy dal suo portafoglio cioè dopo tutto questo l'hanno anche derubato ma che cavolo mi fa mi fa incazzare veramente ma vabbè a quanto pare nessuno si accorge di nulla passano sei settimane dall'omicidio e la cosa spaventosa ragazzi è che davvero avrebbero potuto farla franca per fortuna però Anne la più giovane del gruppo non riusciva più a convivere col fatto di aver tolto la vita a Jimmy che tra l'altro vi ricordo era il suo compagno comunque era convinta che la polizia sarebbe riuscita ad arrivare a lei in qualche modo a lei e poi a tutto il gruppo tutto ciò a cui riusciva a pensare era andare dalle autorità e confessare il crimine confessare tutto raccontare ogni cosa allucinante a cui aveva assistito Zaid però ovviamente non ci pensava neanche a confessare e avendo la sicurezza che prima o poi Anne sarebbe crollata e scogita un altro piano per lavarsene le mani in sostanza scrive una confessione di omicidio di tre pagine in cui finge di essere Anne e la firma a nome della ragazza in questo modo secondo lui tutte le colpe sarebbero andate solo ed esclusivamente a lei a questo punto non è chiaro se Anne avesse capito il piano fatto sta che Zaid chiama il numero d'emergenza dell'Inghilterra il 999 e dice all'operatore di essere in imminente pericolo di vita gli spiega di conoscere una donna di nome Anne e che questa donna ha ucciso Jimmy Prout e ne è sicuro perché ha trovato la sua lettera di confessione confessava l'omicidio e ora spiega all'operatore stava cercando di uccidere anche lui quanto cavolo è contorta la mente di quest'uomo io non ho parole pensava davvero che avrebbe funzionato cioè vabbè la polizia si presenta subito al numero 35 di St. Stephen's Way a North Shields e trova Zaid insieme a Kay e Myra l'uomo come primissima cosa che cos'è che fa consegna agli agenti la finta lettera di confessione di Anne e per fortuna questa volta si insospettiscono in effetti era molto strano che Zaid avesse le confessioni di un omicidio che appartenevano ad un'altra persona fatto sta che per via di questo sospetto e per via del fatto che fossero al corrente ovviamente della sparizione di Jimmy gli agenti decidono di arrestare Zaid Myra e Kay per vederci chiaro finalmente li portano alla stazione di polizia per interrogarli e intanto Anne prova a scappare tuttavia viene rintracciata molto in fretta e viene arrestata anche lei appena cominciano gli interrogatori tutti e quattro provano a scaricarsi la colpa a vicenda ma alla fine Anne crolla e racconta tutto quanto agli agenti andando proprio nel dettaglio dice di essere stata lei a mettere i pantaloni attorno al volto di Jimmy e porta addirittura gli agenti nel luogo in cui avevano scaricato il corpo quindi finalmente lo trovano e vengono a conoscenza degli orrori indicibili che accadevano tra quelle mura purtroppo comunque essendo passate settimane il corpo era in avanzato stato di decomposizione e per questo non fu possibile identificare una causa del decesso certa tuttavia nonostante la decomposizione le tracce delle torture estreme che aveva subito erano ancora chiaramente visibili praticamente tutto si vedeva le coltellate i denti ovviamente il taglio nello scroto tutto a questo punto gli agenti trovarono i video delle videocamere di sorveglianza scoprirono i post su facebook in cui Jimmy chiedeva aiuto e l'intera vicenda venne trattata dai media e furono proprio i media a forgiare il nome culto della morte di North Shields circa un anno più tardi nel maggio del 2017 cominciarono i processi contro tutti i membri del gruppo e tutti e quattro si dichiararono non colpevoli ma Zaid si impegnò proprio a dipingersi come un povero uomo costretto sulla sede rotelle che mai avrebbe potuto fare qualcosa del genere continuava a rimarcare il fatto di essere un cittadino modello sfortunato per via del suo presunto incidente e assolutamente innocente provò davvero in tutti i modi a sfuggire a una condanna tuttavia le tre donne del gruppo avevano finalmente preso le distanze e avuto il coraggio di raccontare tutta la verità su Zaid smascherarono ogni sua singola bugia raccontarono degli abusi ai quali erano sottoposte e soprattutto raccontarono il modo in cui trattava Jimmy tutto nei minimi dettagli ragazzi ogni cosa anche le più terribili e le loro testimonianze combaciavano il processo andò avanti per circa due settimane nelle quali si stabilì che Zaid aveva il controllo totale su tutti i membri del gruppo li aveva manipolati per anni riuscendo a far commettere violenze anche a loro venne detto che i suoi metodi violenti erano paragonabili a quelli utilizzati nel medioevo si stabilì che senza Zaid le tre donne non sarebbero mai state capaci di infliggere tanta violenza nei confronti di una persona senza di lui Jimmy non sarebbe stato ucciso sarebbe vivo l'accusa ha inoltre dichiarato che Anne era totalmente responsabile dell'omicidio perché era stata lei a compiere l'azione che infine avrebbe tolto la vita a Jimmy anche se l'intenzione finale non era quella di ucciderlo anche Myra e Kay vengono ritenute responsabili perché non hanno fatto mai nulla per impedire le violenze e infine l'omicidio ma passiamo alle sentenze Anne Corbett viene dichiarata colpevole di omicidio e condannata ad un minimo di 27 anni di reclusione anche Zaid Zaman viene dichiarato colpevole di omicidio ma lui viene condannato ad un minimo di 33 anni di reclusione Myra e Kay tuttavia vengono dichiarate non colpevoli dell'omicidio di Jimmy ma colpevoli di aver causato o consentito l'omicidio di un adulto vulnerabile per questo vengono condannate rispettivamente a 9 e a 12 anni di reclusione non starò qui a giudicare sulle condanne perché non è un compito mio ma volevo dirvi che sono sia contento che un po' amareggiato sono contento del fatto che Zaid abbia ricevuto la pena più grande rispetto a tutti quanti perché se lo merita senza dubbio ma al tempo stesso sono amareggiato perché comunque non mi sembra abbastanza considerando come hanno trattato Jimmy e che c'erano anche dei cani nel mezzo porca puttana non mi dilungherò oltre però fatemi piuttosto sapere cosa pensate voi riguardo le condanne la storia di oggi è stata semplicemente straziante dall'inizio alla fine cioè arrivi ad un punto che pensi che non potrebbe andare peggio di così ma poi va molto peggio e continua ad andare sempre peggio è allucinante davvero penso sia una delle vicende più malate e cruente che abbia mai trattato sul canale Jimmy secondo le persone che lo hanno conosciuto era davvero una persona con un cuore d'oro sempre gentile disponibile con tutti sempre gioioso felice non meritava neanche lontanamente una fine simile e soprattutto non meritava di passare anni di sofferenze dalle stesse persone che pensava fossero sue amiche mi vien da piangere giuro questo caso mi ha toccato tantissimo tanto che come vi dicevo all'inizio del video il giorno in cui ho scoperto questa storia poi ho sognato Zaid ho sognato vabbè non solo Zaid ho sognato Zaid Kay Han e Mayra vi giuro ragazzi mi hanno terrorizzato sentite che cosa ho sognato nel sogno praticamente ero in un traghetto con degli amici e ad un certo punto ho visto passare Zaid nella sua sedia a rotelle seguito dalle tre ragazze Jimmy non c'era non l'ho proprio sognato Jimmy e penso che sia perché nel sogno quelle persone erano un pericolo e Jimmy ovviamente non sarebbe potuto rientrare nella categoria pericolo del mio cervello comunque appena li ho visti ho avuto una sensazione di angoscia fortissima perché sapevo che durante il viaggio in traghetto avrebbero provato ad uccidere qualcuno quindi ho passato tutto il sogno a cercare di proteggere i miei amici a scappare a nascondermi a nascondere le persone con cui ero ragazzi è stato terribile in più ad un certo punto del sogno sono effettivamente riusciti a togliere la vita ad un'intera famiglia non conoscevo queste persone erano nella loro cabina nel traghetto e all'improvviso qualcuno è entrato e ha trovato i loro corpi smerati senza pietà il sogno è finito così ma cavolo mi sono svegliato con un'angoscia terribile veramente e niente volevo condividere con voi questo sogno per farvi capire quanto mi abbia toccato questa storia parlo da tanto tempo di vicende come questa a volte anche peggiori sotto alcuni punti di vista ma non mi capita quasi mai di sognarle spero non le sognerete anche voi perché vi assicuro che non è una bella esperienza e niente questo era tutto ciò che avevo da raccontarvi oggi conoscevate la tragica storia di Jimmy e soprattutto vi aspettavate che sarebbe stata così cruente e straziante vi aspetto qui sotto per parlarne intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una persona di cui vi ho brevemente accennato nello scorso video una persona paragonabile ad Albert Fish ho detto tutto spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo questa finisce dritta in quella playlist lì vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao